Oggi ricorre un anno dal triste incidente che ha colpito Sergio Salvagno durante la manifestazione Lo sbarco dei pirati in occasione della diciottesima edizione di Veredepoca d'Imperia 2014. Assonautica anche oggi, ma costantemente da quella notte, è vicina a Sergio. Grazie ai contributi versati sul fondo da parte di tanti cittadini, degli sponsor e degli amici tutti, il presidente di Assonautica Lucio Carli e il Collegio dei Provviviri hanno staccato un importante assegno che ha permesso di realizzare il montascale a casa di Sergio. Purtroppo il suo calvario non è ancora terminato e dovrà subire altri interventi per la ricostruzione maxillo-facciale e per l'occhio sinistro. Inoltre il Collegio dei Provviviri si adopererà per far fronte alle spese di una clinica per il recupero, per quanto possibile, della parola. Essendo arrivato a settembre, sarà sempre cura di Assonautica provvedere alle spese scolastiche per la figlia Anita, come già accaduto l'anno scorso. Assonautica coglie l'occasione per rinnovare i ringraziamenti a quanti stanno permettendo tutto questo attraverso le loro donazioni sul fondo Amici di Sergio Salvagno.